Continua la telenovela Caltacqua Consorzio Piano Marina in merito alla realizzazione della rete idrica nella zona balneare di Manfria. In una nota la Società di Gestione del Servizio Idrico Integrato in provincia di Caltanissetta sottolinea che è ancora in sospeso il percorso per regolarizzare a garanzia e beneficio in primo luogo degli stessi utenti la vicenda degli allacci idrici di Piano Marina. In quest'area un consorzio privato ha effettuato le opere di urbanizzazione del comprensorio realizzando la rete idrica della zona e adesso, dice Caltacqua, erogherebbe l'acqua ai residenti discutendone il relativo compenso. La società ribadisce ancora una volta di avere esclusivamente concesso un punto di fornitura idrica al consorzio Piano Marina per la realizzazione delle opere di urbanizzazione compresa la rete idrica a servizio della contrada. Nessuna concessione è stata mai data e mai la si sarebbe potuta dare a vendere l'acqua fornita e destinata esclusivamente all'esecuzione dei lavori. La situazione attuale non è conforme rispetto alla Convenzione di Gestione e non garantisce agli utenti ricadenti nella zona una eguaglianza di trattamento rispetto a tutti gli altri utenti della provincia. Di fatto, la tariffa media e la quota fissa utilizzate potrebbero essere superiori a quelle applicate agli utenti del resto della provincia. Sempre Caltacqua ha ripetutamente chiesto al consorzio Piano Marina le appropriate iniziative per regolarizzare il contratto pena l'adozione di drastiche misure previste contrattualmente, tra le quali la risoluzione del contratto e la disattivazione del punto di fornitura impropriamente utilizzato. Riterando la diffida, Caltacqua esorta il consorzio a regolarizzare tempestivamente il proprio contratto col gestore a tutela degli stessi consorziati residenti a Piano Marina che verrebbero di sicuro penalizzati qualora il gestore procedesse con l'interruzione della fornitura idrica.